Un'altra sera in compagnia di TGTG, l'unico programma che mette a confronto non i giornali ma i telegiornali. Bentrovati a tutti voi, lo facciamo oggi sui tanti temi di questa sera con il presidente della Fondazione Trentina, Alcide De Gasperi, il professore Giuseppe Tognon. Grazie per essere con noi. Buonasera a voi. Andiamo a vedere subito i titoli della sera, subito dopo la nostra sigla. Ex Silva, ora l'addio è ufficiale. Asselor Mittal ha presentato in tribunale l'atto di recesso dal contratto. Ricorso dei commissari si va allo scontro legale. Intanto Conte invia una lettera appello ai ministri per trovare nuove idee. Serve un cantiere per Taranto. Poi incontra i parlamentari 5 Stelle retti in Puglia e incassa un altro no sullo scudo penale. La maggioranza resta spaccata. Asselor Mittal deposita l'atto per il recesso dal contratto. Pronto il ricorso dei commissari si annuncia una dura battaglia legale. Scontro sull'immunità penale dai deputati di 5 Stelle pugliesi secco no a Conte. Il premier chiede ai ministri idee per il rilancio. Mattarella 16 anni fa Nassiri ha i nostri caduti vincolo morale per proseguire l'impegno Nato ed Europa fondamentali per la pace. Professore, occhi puntati sull'Ilva, che lo ricordiamo non è solo a Taranto, ovviamente con la formalizzazione del recesso depositato aumenta la preoccupazione. E il governo in questa trattativa, in maniera inedita, il premier ha chiesto aiuto, idee agli altri ministri. Ho sentito? Ho sentito. Più che idee bisognerebbe avere una posizione chiara, unita. Riunire il paese intorno al proprio governo per poter affrontare una trattativa durissima. Perché l'idea di chiedere idee sembra che si possa sostanzialmente fare una specie di gara. Lì ci sono di idee, ma lì c'è un pezzo della storia italiana, un pezzo della storia operaia italiana. Ci sono migliaia di persone, ci sono errori della classe politica. Quindi la cosa migliore è essere uniti e fare il proprio mestiere. Il Presidente del Consiglio ha il governo in mano. Faccia quello che può un Presidente del Consiglio in un grande paese. Suggerimenti li troverà dai tecnici, li troverà dagli operai, dai sindacalisti, dalle forze sociali. Quindi non è un problema di idee. Il problema è di avere un punto e salvare l'ILVA. Costi quel che costi. Naturalmente bisogna anche saper presentare le cose in un certo modo. Numeri, escluso l'indotto, oltre 10.000 i lavoratori. Perché si parla sempre di Taranto, perché soltanto a Taranto sono oltre 8.000. Ma immaginiamo anche il più grande colosso dell'acciaio al mondo che decide dunque di abbandonare il nostro paese, come ha fatto ad un anno di distanza da un accordo. E allora, a proposito di sindacalisti, andiamo a sentire oggi le parole del Segretario Generale della CGL, Maurizio Landini. Ecco che cosa ha detto proprio sulla trattativa con la proprietà. Noi con Arcelor Mittal non abbiamo discorso, perché Arcelor Mittal l'ha depositato in tribunale, ha parlato con il Presidente del Consiglio, non ha parlato con le organizzazioni sindacali. Come è noto, per noi il problema è applicare quell'accordo, perché numeri di quel genere lì vuol dire mettere in discussione gli impegni scritti che Mittal si è preso verso di noi, verso il Paese, verso il Governo. Quindi per noi il tema è ripristinare quell'accordo e andare avanti con gli investimenti che debbono essere fatti, facendo una discussione. Non è accettabile che qualcuno si svegli, in questo caso Arcelor Mittal, dalla sera alla mattina e dica che faccia saltare quell'accordo. E su questa trattativa io le chiedo anche, professore, la maggioranza, non solo il Governo si sta giocando molto. Che ne pensa? Sì, diciamo che un Governo che è in difficoltà, che ha una maggioranza non unita, si trova di fronte a una grana enorme, ma anche a un'occasione straordinaria per riqualificare la funzione di un Governo e di una maggioranza. Se questa maggioranza ne esce bene, cercando di fare il possibile, è un sollievo per tutto il Paese. Significa che c'è un Governo, perché l'ILVA è un fatto clamoroso. Ma lei pensi a tutti quelli che sono nelle crisi con meno operai da licenziare o che perdono il lavoro, quelli che si sentono in mezzo alle decine, centinaia di crisi e che non hanno le prime pagine e non hanno un Presidente del Consiglio che dice voglio idee per salvare l'ILVA. E ne abbiamo di casa. E ne abbiamo tanti. Quindi l'ILVA, comunque vada, e spero che vada nel meglio possibile, è un'occasione d'oro per questa maggioranza. Se la perdono, se litigano su questo, se fanno sgambetti tra loro per gli emendamenti, perdono un'occasione straordinaria, saranno spazzati via, d'accordo, ma perde un'occasione il Paese, il Governo faccia il Governo. Cosa serve un Governo se non per questi problemi? A proposito di politica, lo ricordo che ci segue a casa il Professor Giuseppe Tognola, non solo è docente ordinario all'Umsa di Roma, ma presiede la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi. Non posso che chiederle, guardando ad un gigante della classe politica, è tornato anche in queste settimane un po' il tema del ruolo dei cattolici nella politica. Abbiamo vissuto in questi ultimi decenni diverse fasi. Ecco, secondo lei, cito fra gli altri le parole anche del Cardinal Bassetti, è l'ora dei laici responsabili, ma su questo che stagione si apre? Che posto può esserci appunto per una voce che rappresenti certi valori? Io penso che i cattolici devono stare in politica prima di tutto in quanto italiani. Qui non c'è bisogno solo di cattolici. Non è un'etichetta. Quindi ci vogliono più italiani, più giovani, che sentono ancora il piacere, la responsabilità di lavorare per gestire attraverso la politica quello che una famiglia da solo non può fare. La politica è straordinaria. Ha in mano le leve per potenziare le nostre braccia, le nostre gambe, la nostra testa. Solo con la politica si fanno delle cose enormi. Naturalmente con la politica si possono anche distruggere anni, decenni di buon governo. Quindi gli italiani devono impegnarsi di più in politica. Se gli italiani trovano esempi tra cattolici, meglio, vuol dire che i cattolici spingeranno perché ritorni un nuovo impegno per la politica di questo paese, di questa Europa. Un partito dei cattolici non è il problema. Ce ne sono già troppi. Perché i cattolici in politica devono etichettarsi sempre e solo come cattolici? Rischiano molto. Perché un cattolico che dà scandalo, dà scandalo due volte, fa male quello che deve fare e colpisce anche un sentimento profondo della fede. Quindi prima di parlare di partito dei cattolici, bisognerebbe pensare se ci sono tanti italiani che credono, che hanno voglia di discutere per collaborare ai problemi di questo paese. Sarebbe bello continuare ancora. Le chiedo però, come dire, lo spazio di un tweet vede un fermento? Cioè, perché mi sembra che qualcosa, come dire... Vedo tante belleità. Ah. Vedo tanta gente che parla. Beh, forse è quella che ha i microfoni. Sì. Non alle future generazioni. Devo dire la verità, vedo pochi esempi. Noi abbiamo avuto dei cattolici negli ultimi governi che si sono fatti un partito per conto loro, che litigano con questo, litigano con questo. Certo, io preferisco vedere giunte municipali, comunali, circoscrizionali. Preferisco sapere che in quel comune, in quella città, c'è una classe dirigente che sta venendo fuori. Se poi scopro che è cattolica, tutto di guadagnato. Gli darò ancora più credibilità. Ma l'importante è che si muovano i giovani e che non si usi i cattolici o l'idea del partito dei cattolici per bloccare tutto. Un manifesto. Andiamo agli altri titoli e poi continuiamo a parlare insieme perché ci sono tanti temi nella giornata di oggi. Guardateli con noi. Mattarella ricorda la strage di Nassiri all'esempio dei nostri caduti vincolo morale per continuare l'impegno in aree di conflitto. I soldati feriti in Iraq trasferiti in Germania. Forte ondata di maltempo in tutta Italia, flagellate le regioni del sud, a Matera strade come fiumi. Allerta rossa in Calabria, Sicilia e Basilicata, vento oltre i 100 km orari. Acqua alta a Venezia, 70 cm, nella Basilica di San Marco. È accaduto solo sei volte in 1200 anni. Colpo di scena al processo per i depistaggi sul caso Cucchi. Il giudice si è astenuto, spiegando di essere un ex carabiniere attualmente in congeto. Si sblocca la situazione politica in Spagna dopo il voto di domenica. Sanchez e Iglesias annunciano l'accordo per un governo tra socialisti e Podemos. Partiamo proprio da qui. Una situazione politica di stallo e forse anche Spagna, non so se possiamo applicare un po' il metro delle analogie, ma di fatto ci si ritrova un po' con inedite alleanze. Sì, la Spagna spiega quello che sta avvenendo in tutta Europa. I paesi di democrazia più solida erano l'Inghilterra. Si vede che cosa sta succedendo in Gran Bretagna con la Brexit. La Spagna era un paese solido, è arrivata per ultimo la democrazia, una destra e una sinistra, alternanza precisa, chiaro, è saltato tutto anche lì. E quando saltano questi schemi, naturalmente è difficile trovare degli schemi alternativi. E quindi stanno emergendo che cosa? Come in Italia stanno emergendo pulsioni. Cioè emergono istanze, desideri, che non sono riconducibili a degli schemi di dialettica politica e parlamentare tradizionali. Allora riemerge la destra, ma riemerge quale destra? Riemerge la paura per il lavoro, la rabbia, emerge l'idea della patria, senza capire che l'idea della patria è importantissima, ma abbiamo una patria più grande, che è ancora più importante, della piccola patria. Allora la Spagna è un indicatore preciso che anche il ricorso alle elezioni si è fatto tanto per gettare i dadi, è peggio di tante altre soluzioni. Chi governi cerca di governare bene, non sfidi l'opinione pubblica, non pensi che basta giocare a dadi, che non serve mettersi insieme. Podemos e Sanci, i socialisti, hanno litigato per quattro mesi per non fare un governo e avevano i numeri. Adesso si abbracciano 24 ore dopo le elezioni, quando hanno perso voti e non ce la faranno da soli. Ma che esempio è questo? Possibile che nessuno possa sacrificare interessi di medio periodo, di breve, sapendo che può guadagnare molto. La stabilità, la tranquillità, la fiducia con cui si fanno le cose, le idee chiare. Certo non abbiamo ancora De Gasperi, ma De Gasperi era una persona che guardava lontano. Si ha molto la sensazione nella politica interna, ma come diceva lei, c'è una patria più grande, riferendosi a quella europea, che ormai la distanza non è più nel lungo periodo, ma in quello immediato. Anche come progetti, non solo politici, ma davvero pratici, di visione, sembra mancare. Sì, perché l'errore è che noi abbiamo tradotto la politica in comunicazione. Lei è un grande comunicatore, benissimo. Sono comunicatore. La comunicazione è veloce, ma non si può riportare tutto ai ritmi della comunicazione. Se io avessi un figlio e gli dico devi diventare bello, bravo, intelligente, tac, gli ho dato il messaggio e quello lo diventa, no. Ci vogliono anni, fatiche, litigi, discussioni, cose penose. Gli uomini, le donne, hanno bisogno dei loro tempi. La vita, che pure è breve, è comunque dentro un tempo. La fatica non si risolve con un messaggio, ha bisogno del tempo. Quello che manca alla politica è la prospettiva del tempo. Nessuno vuol passare per grande dopo che sarà morto. Tutti vogliono tutto e subito e la politica non può, per chi governa, pretendere tutto e subito. Può pensare di essere ricordato come un grande politico o un onesto politico, di fare felici qualcuno, di avere dentro di sé delle soddisfazioni, ma non si può avere tutto e subito. La vita non è tutto e subito. E professore, forse è anche figlio di questo clima, quello che è avvenuto a Liliana Segre. Abbiamo un minuto in chiusura, ci tengo a ricordare ancora una volta come da giovedì scorso è sotto tutela, sotto scorta, i negazionisti dell'odio. C'è stato anche un dibattito sui numeri, ma riceve in media, conferma Repubblica, circa 200 messaggi d'odio al giorno attraverso i social media. Che paese stiamo diventando? Allora, ringraziamo il Dio che ci sia Liliana Segre. Questa donna, con l'età che ha e con quello che ha sofferto, sbugiarda tutte le cattive coscienze di un paese. Non dobbiamo avere paura dei 200, 300, 500 messaggi di insulto. E che dobbiamo, accanto a questi messaggi di insulto, prendere sul serio quello che possono rappresentare. Dobbiamo evitare che diventino mille, che occupino le istituzioni, che portino il paese a ripetere quello che abbiamo già vissuto. È il discorso di prima. Il tempo, la memoria non c'è più. Tutto è subito. Basta insultare Liliana Segre e dire ho risolto il problema? E che cosa ho detto? E se a forza di insultare Liliana Segre non ci ritroviamo indietro con la storia di 70-80 anni, che cosa abbiamo ottenuto? Grazie professor Tognone per essere stato con noi. Grazie davvero. Tornerà presto. È un invito che già le faccio. Se vorrete. In diretta. Mentre invito voi che ci seguite a restare con noi alle 21.05. Beh, vedremo insieme Tizisassa, altre due puntate. Questa sera la bellezza. La vedete anche alle mie spalle, della famiglia. Una serie da veramente conoscere e scoprire ora su TV 2000. Il nostro dolcice in fondo torna all'appuntamento ad un anniversario legato a domani, 13 novembre del 2009, in Birmania, quando il premio Nobel per la pace a Osan Suu Kyi viene liberata. E una curiosità che forse non tutti sanno è che la Lega, il nostro paese, è che è cittadina onoraria delle città italiane di Roma, Parma e Bologna. Ci lasciamo così e ci vediamo domani. Grazie per essere stati con noi.